Sulla nostra regione persistono condizioni di tempo discreto e soprattutto con temperature ben al di sopra della media stagionale. Nei giorni scorsi su molte località sono stati raggiunti valori quasi estivi di temperatura fino a 23-24 gradi centigradi, una situazione senz'altro anomala ma che rientra nelle normali oscillazioni della primavera. Ricordo che la primavera è la stagione più instabile durante la quale i repentini cambi di circolazione possiamo dire che rappresentano la norma e proprio nel corso di questo fine settimana assisteremo ad un vistoso cambiamento che riporterà le temperature prima in linea con la media del periodo e successivamente di alcuni gradi al di sotto. Infatti se osserviamo brevemente la cartina sinottica prevista per sabato 3 aprile notiamo come l'alta pressione abbandonerà la nostra penisola dirigendosi sul nord atlantico e favorendo così la discesa di una depressione a carattere freddo fino alle porte dell'italia. La nostra regione sarà interessata marginalmente ma quel tanto quanto basta per determinare un radicale cambiamento della circolazione ma ecco in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni. Domani sabato 3 aprile avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio con associate precipitazioni di breve durata, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio che interesseranno maggiormente le aree montuose. Nel corso della notte su domenica non si esclude qualche spruzzata di neve sui rilievi al di sopra dei 1200-1300 metri, temperature in diminuzione dal pomeriggio in maniera sensibile tra la serata e la notte successiva, venti da deboli e moderati da prima da ovest-sud-ovest con tendenza a disporsi da nord dalla serata, mare da poco mosso a mosso. Domenica di Pasqua condizioni di cielo poco nuvoloso con ampi resseneramenti lungo la costa, addensamenti anche consistenti invece potrebbero interessare le aree montuose dove non si escludono sporatici piovaschi, temperature in ulteriore diminuzione, venti moderati da nord-est con rinforzi sui crinali dell'Appennino, mare poco mosso sotto costo e mosso a largo. Per Pasquetta sono previste condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, salvo modesti addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, temperature in lieve aumento nei valori massimi, freddo invece nelle ore notturne e al primo mattino, specie nelle vallate interne, venti deboli di direzione variabile e mare quasi calmo o poco mosso. Nel corso della giornata di martedì 6 una nuova depressione di origine artica si avvicinerà alla nostra penisola determinando un nuovo cambiamento, probabilmente più incisivo poiché oltre ad avere una traiettoria più occidentale sarà accompagnata da aria ulteriormente fredda, dunque tra mercoledì 7 e giovedì 8 aprile la nostra regione potrebbe essere interessata da condizioni meteo simili invernali, con piogge senza escludere il ritorno della neve in montagna al di sopra dei mille metri. Una tendenza questa che andrà rivista consultando le prossime uscite modellistiche per cui invito i telespettatori a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook Meteo Cilento. Termino qui da Giuseppe Stabile, auguri a tutti degli spettatori di Cilento Channel di trascorrere un sereno weekend pasquale.